Allora, prossima relazione qui sul palco dell'Obe Summit 2019, invito a raggiungerci a Bruno Bertelli, CEO di Publicis Italia. Benvenuto Bertelli. Buongiorno a tutti, funziona? Allora, io oggi parlerò di come si sta evolvendo l'entertainment nel mondo dell'advertising, ma non solo, soprattutto in relazione allo storytelling. Ecco, il punto di partenza che noi sappiamo tutti, che noi nasciamo, sin da quando siamo proprio piccoli piccoli, ci vengono raccontate delle storie e queste sono anche il nostro modo per conoscere il mondo. La cosa interessante però è che oggi più che mai i millennials odiano la pubblicità, odiano tutto quello che è vendita, che è proprio pubblicità in maniera più esplicita. Quindi l'entertainment, soprattutto in America, sta avendo un grossissimo sviluppo. In Italia questa cosa non sta ancora succedendo, in Italia c'è stato un grosso sviluppo negli anni passati di branded content, ma più legati a forme di activation, dove in realtà la parte di entertainment era un elemento importante, però non era l'elemento, diciamo, più rilevante, l'elemento principale. La cosa è che la pubblicità, proprio in termini di percepito, per tutti i contenuti di entertainment che i giovani vedono oggi, la trovano, tra virgolette, pallosa, non più interessante. Le serie TV, tutto quello che sta succedendo tra Netflix, la concorrenza, le major americane, come si stanno sviluppando, diciamo, le forme di entertainment, cioè la quantità, soprattutto, fa sì che il nostro mondo, quello della pubblicità, stia diventando sempre più, tra virgolette, piatto e meno interessante. Il punto è che il nostro cervello funziona in una maniera per cui siamo molto più disposti a ricevere delle informazioni se, diciamo, viene attivata la parte ludica del nostro cervello e non quella razionale. Quindi, in realtà, quello che succedeva una volta con il messaggio laterale, oggi viene, diciamo, usato proprio dall'entertainment. Quindi un entertainment può far sì che un messaggio venga molto più accettato, shareato e ricordato. Tutti quanti, sapete, avete visto cosa è successo con Game of Thrones e Starbucks. Allora, io ho sviluppato un po' una teoria, io vengo dalla screenwriting, all'inizio io volevo fare lo sceneggiatore, poi mi hanno detto che non ero abbastanza bravo, quindi sono passato la pubblicità. Però mi sono portato a casa, ho continuato ad usare un po' queste, delle regole di storytelling, che in realtà ho cercato di applicare anche al mondo della comunicazione. E ho questa teoria che si chiama story branding. La teoria è basata sul fatto che oggi i consumatori sono abituati a leggere i brand come una storia. Se voi guardate, ad esempio, uno dei successi di Apple è legata anche proprio alla storia di Steve Jobs, cioè lui che ha avuto successo, è stato licenziato, è tornato, la gente si è affezionata al brand in quanto storia. Ma perché? Perché proprio perché noi cerchiamo, è proprio un'indole che abbiamo naturalmente, quello di leggere tutto come se fosse una storia. Lo sport, ad esempio, il successo dello sport ancora oggi è perché ci leggiamo delle storie. Il Liverpool che vince in semifinale è perché ha il background, cantano la canzone, cioè se voi avete visto anche come si è sviluppato sui social media, c'è stata proprio una storia raccontata. Io la potrei poi far vedere con tutti le caratteristiche, diciamo, di uno screenplay hollywoodiano. E così succede su tutto quello che vediamo sui social media. Il grande Torino, ogni volta che il Torino vince, comunque c'è una rielaborazione delle informazioni e che vengono portate dentro una storia più ampia. Per quanto riguarda i brand succede esattamente la stessa cosa. I love brand si separano dai brand normali perché vengono visti come una storia continua, quindi sempre con lo stesso tono di voce, sempre con la stessa storia. E questo è un elemento molto molto importante. La consistency è una cosa che noi non teniamo conto. In passato sono stati fatti tanti errori per cercare di prendere il target, di essere virali, di sorprendere, di non essere consistenti con quello che è il DNA dello storytelling di un brand. Vi faccio un esempio in positivo. negli anni 2000, T-Mobile ha sviluppato un modo di comunicare, ha preso i flash mob e ne ha fatto proprio una loro property in termini di modalità di comunicazione. È diventata una cosa che poteva fare, cioè se in quel periodo qualcun altro faceva un flash mob, in realtà la gente lo leggeva e pensava fosse in realtà di T-Mobile. Non so se vi ricordate quello nella stazione ferroviaria, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un elemento. Il secondo elemento è che ogni storia è fondamentalmente costruita in tre parti. E la stessa cosa poi si può applicare alla strategia di comunicazione dei brand. Allora, qualsiasi storia che voi vedete ha queste tre parti, che sono il setup, la confrontation viene chiamata, e poi la resolution. Suffering, struggle, overcome, viene usata anche la musica. Beethoven, ad esempio, aveva questo tipo di struttura. Però non è un caso che, ad esempio, che il teatro è in tre atti. Interessante? Il punto è che tutti i libri più famosi che voi leggete, che voi guardate, o i film, hanno questo tipo di struttura. Quindi il setup è la presentazione del protagonista. C'è sempre un protagonista che viene introdotto a noi. E spesso e volentieri è qualcuno di affabile, di piacevole. Quindi noi ci affezioniamo a questo protagonista, anche se è un protagonista negativo. La seconda parte è quello dello struggle. Cioè il protagonista entra in un momento difficile, succede qualcosa per cui l'obiettivo che vuole raggiungere gli viene impedito. Potrebbe anche essere prendere un bicchier d'acqua, ma questo bicchier d'acqua deve diventare quasi impossibile da prendere. E poi dopo c'è la risoluzione finale. Ok, io adesso vi faccio vedere come questa cosa può essere fatta, applicata anche per quanto riguarda la comunicazione di un brand. E una volta che viene definita, se ripetuta, questa cosa crea affezione nei confronti del consumatore. Il motivo per cui hanno così successo oggi le serie televisive, perché è la stessa storia ripetuta. Noi quando siamo piccoli cosa facciamo? Chi di voi ha figli sa che comunque i bambini piccoli vogliono sempre la stessa storia. Questa cosa ci crea comunque una sensazione positiva, piacevole, perché sono delle aspettative rispettate. Io quando vado a vedere un film horror ho delle aspettative che voglio che vengano rispettate. E così quando vedo un content di Nike o di Adidas o di Apple, mi aspetto che la storia abbia una certa struttura. Ed è per quello che la consistency è così importante. Ed è per quello che è importante differenziare brand per brand il modo di raccontare queste storie. E poi diventano property del brand. La cosa interessante però è che anche quando faccio entertainment io posso comunque comunicare quelli che sono i valori del brand in una maniera più alta rispetto a quando sono costretto, tra virgolette, a vendere dei prodotti. Per cui il brand and content, l'entertainment, oggi è una forma potentissima per veicolare quelli che sono i valori di un brand e cercare, diciamo, affezione o compartecipazione da parte del consumatore. E questa è la fase di setup. Quello che noi normalmente definiamo un brand believe. Quello in cui il brand crede. Ed è come se il brand si presentasse nei confronti della sua audience. Ecco, c'è una teoria che si chiama The Golden Circle. Non so se avete mai sentito Simon Sinek. E' un next planner che ha sviluppato questa teoria che in realtà è molto molto interessante. Dove lui dice fondamentalmente che quello che ha comune grandi leader, soprattutto in relazione alla comunicazione, ma non solo, anche nella religione, nella politica, è che mettono al primo posto il why. E mai il cosa. Quando Obama ad esempio ha vinto le elezioni, lui ha messo prima di tutto il why. perché aveva quel programma lì, piuttosto che dire cosa avrebbe fatto con quel programma o quale tipo di soluzione avrebbe portato. Il why quindi diventa la cosa più importante. E che giustifica tutto quello che facciamo, anche l'entertainment, anche raccontare una storia. Quindi non è soltanto per intrattenere l'audience, ma perché io come brand credo in qualcosa. Quando Nike fa dell'entertainment è perché Nike crede in alcuni valori. Il problema ad esempio che sta avendo Red Bull in questo periodo è che hanno fatto ovviamente dell'entertainment la loro forma principale di comunicazione, ma non hanno legato un why. Non c'è un perché. E quindi rischia di diventare entertainment for the sake of it. Vi faccio vedere un video di Simon Sinek che spiega proprio questa cosa. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. because if Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients to do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Ok, quindi è chiaro che il why, se io partendo dal why, posso essere molto più inspiring che partendo da il cosa voglio venderti. E questo why fa sì che non ci sia disconnessione tra quando io faccio pubblicità e quando faccio entertainment. Perché un altro problema grosso è anche quello. Brand che fanno branded content o entertainment. Tante volte sembra che facciano un'altra cosa rispetto a quando comunicano in maniera più tradizionale advertising. Focalizzarsi sul why, sul brand believe, su quello in cui il brand crede, dà la possibilità in realtà di essere molto più consistenti anche nel campo dell'entertainment. Il secondo punto, ah tra l'altro io come immagini sto usando, non so se l'avete visto, un film che si chiama Le ali della libertà, ed è un film molto bello per un motivo in particolare. Che queste tre parti sono splittate esattamente dal punto di vista della tempistica in tre parti uguali. Normalmente in un film la parte, soprattutto la parte di conclusione, è la parte che dura meno, no? Dura 10-15 minuti al massimo. Questo film ha 40 minuti di setup, quando conosciamo il protagonista, finisce in prigione, capiamo perché. La parte di struggle, la parte di problema, tra virgolette, e la parte di resolution dura 40 minuti anche quella. E si sviluppa lui che esce, dopo arriva l'altro, eccetera, eccetera. Ed è esattamente come la costruzione del teatro. La seconda parte, appunto, vi dicevo, è lo struggle. È la parte, tra virgolette, dove comunque entriamo in difficoltà. E cosa serve questo? Serve a rendere rilevante il mio belief. Io posso credere in thinking differently, però se questo mio credo non viene messo, diciamo, in tensione, non sarà mai rilevante per il consumatore. Perché non mi ci relaziona, non basta semplicemente che io lo enunci. Devo metterlo in pratica, devo metterlo in azione. Quindi la parte, tra virgolette, di struggle, come in tutte le storie, è la parte più importante. Ed è la parte in cui noi ci relazioniamo come consumatori. La crasi delle due, quindi la proposition, scusate, il setup, il belief con la confrontation, fa sì che io arrivo a una risoluzione, un happy end, che poi dopo è la proposition in termini di comunicazione. Per cui si passa da questa struttura di storytelling a questa di story branding. Believe, tension, proposition, queste tre fasi sono esattamente le stesse tre fasi che vengono usate nello storytelling. E se io definisco queste tre fasi, tutto quello che io faccio, che sia entertainment, che sia pubblicità, che sia social, sarà sempre consistente perché sarà un'unica storia. Ripeto, i consumatori oggi leggono i brand come una storia continua. Ovviamente è molto più facile quando c'è un owner, come era nel caso di Steve Jobs, però i love brand si differenziano dai brand normali proprio perché c'è un'affezione del consumatore, del target rispetto a questo brand perché ci leggono una storia. Tante volte quando il brand ha una difficoltà, se è un love brand ne trarrà beneficio perché si crea ancora più affezione nei confronti del consumatore. Faccio un esempio, quando c'è stato il Dieselgate, l'unico brand di macchine che in realtà ne è uscita benissimo come è stato Volkswagen, nonostante forse fosse uno di quelli che in realtà era più, diciamo, non messa bene rispetto a quello che è successo. Perché? Perché era un love brand. È un love brand, anche quando entra in difficoltà, quando ha dei problemi, in realtà mi sento ancora più legato a questo brand. Prima vi faccio vedere un esempio di Nike, così vi spiego bene. Nike è un caso particolare perché racconta la stessa storia più o meno da 40 anni. Il brief è sempre lo stesso, ma perché la struttura di story branding è sempre la stessa. Allora, il believe, cioè il credo, il why del brand, che viene sempre messo al primo posto, quindi qualsiasi cosa fanno, sia che sia un technical device, che si tratti di scarpe, che si tratti invece di raccontare la storia di LeBron James, è sempre costruita, sempre partendo da questo why. E il why è se io ho un corpo, sono un atleta. If you have a body, you are an athlete. Questo è il believe del brand Nike. Però la cosa interessante non è tanto questo, cioè non è soltanto questo, ma è la seconda parte, è lo struggle, è la difficoltà, è la tension. E la tension di Nike è una cosa molto molto semplice. Ed è basata sul fatto che noi possiamo essere le persone più sportive del mondo o anche andare soltanto in palestra una volta al mese, però noi tutti quanti, quei 10-15 minuti prima di fare sport, ci facciamo venire dei dubbi e diciamo, forse piove, magari vado domani che è un po' tardi in palestra. È vero o no? Ed è una cosa che ci accomuna tutti quanti. Il believe unito a questa tension fa sì che la proposition sia just do it, alza il culo dal divano e vai. Queste tre cose messe insieme, che sembrano una cosa semplicissima in realtà, è il successo di questo brand perché, vi ripeto, è sempre la stessa storia ed è rilevante per il consumatore ed è inspiring perché il why è molto alto e la tension invece è molto relatable, è molto vicina a noi. Questa è la struttura di Nike degli ultimi 40 anni di comunicazione. Quindi, there's an athlete in all of us, the nearer we get to exercise, the more we find excuses, and the proposition is get up and go. Vi faccio vedere solo un esempio, forse uno degli esempi che a me piace, è anche abbastanza vecchio, però quanto è interessante l'entertainment è in realtà legato a un believe, a un why. questo è la storia storia di Alex, un uomo che è riuscita ogni giorno in un corpo diverso, e per un giorno, questo è tutto bene. Alex ha mantenuto un record di un'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza, che accompagnò il tutto il tutto dove il fuoco. L'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza di un'occhiazza. L'occhiazza di un'occhiazza 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 di un'occh in the audience could play him and be featured in the film Each episode contained a few webcam diaries in which real fans actually wrote and acted out some of Alex's most intimate moments in the movie I called her three times today I hung up every time And in the end the audience helped give Alex hundreds of faces This love story by two technology companies reached 70 million views It got strangers discussing their own sense of identity All while celebrating the fact that it's what's inside that counts She was right I would see her again But she would never see me Ok, quello che è interessante se voi vedete è proprio grazie adesso non ve lo racconto il Believe Attention Proposition di questo brand però questa struttura dà la possibilità non soltanto di creare entertainment ma di farlo in maniera molto inspiring legato a dei valori e questo perché noi oggi abbiamo disperatamente bisogno di essere ispirati dalle storie ispirati da dei valori non l'abbiamo più dalla politica non l'abbiamo dalla religione i brand oggi hanno la capacità di ispirare le persone con quello in cui credono e portarla avanti in una maniera più intrattenente possibile vi faccio vedere sapete io lavoro per Heineken questa è la struttura di story branding del brand però la cosa interessante è che Heineken fa tantissime partnership quindi tantissime sponsorizzazioni e ad un certo punto queste sponsorizzazioni rischiavano di essere soltanto sponsorizzazioni abbiamo cercato di applicare il why quindi il believe l'attention e la proposition in maniera che diventassero molto più ownable quindi creando delle storie che fossero molto più Heineken rispetto a storie di Formula 1 o rispetto semplicemente storie di 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 Champions League ecco c'è una cosa importante che Heineken considera l'entertainment una cosa molto molto seria e ci sono tanti impedimenti oggi per quanto riguarda l'entertainment la Champions League in particolare non avviene come durante il campionato che ne so di sabato di domenica non si sa mai quando è di martedì di mercoledì un mese c'è un mese non c'è è difficile da ricordare e soprattutto soprattutto è durante la settimana durante la settimana noi lavoriamo ad esempio rispetto a soltanto dieci anni fa un'ora in più quindi vuol dire che non abbiamo più il tempo di organizzarci pianificare andare a casa guardare la partita comprarmi le birre questa cosa fa sì che messa insieme a tutti i device per cui io facilmente mi distraggo abbiamo creato questa campagna che è unmissable è così facile perdersi i momenti e al di là di fare lo spot abbiamo fatto una partnership con la UEFA per avere tutti i contenuti delle partite in tempo reali e darli anche al consumatore che non non ha potuto guardare la partita oppure darli comunque di most share moment quelli diciamo che hanno creato più attenzione in modo che in un video di 3-4 minuti potesse vedere quello che si era perso durante la serata guardare la partita miss that that's how long it takes to make Champions League history blink and you could miss the unmissable when you miss it it hurts Heineken feels your pain we even know we can be the problem what do you want us to do stop selling beer we decided to make the unmissable unmissable by creating the world's most unmissable moments the first ever fan powered highlights every match we listen to the global community on social to measure peaks in conversation keywords and most used emojis to identify the unmissable moments and share those with the world in 50 countries hours after the final whistle reaching 153 million fans prompting 20 million reactions we took the world's most unmissable moments and made them impossible to miss again un contento di entertainment che forse è il meno ��able possibile che è la partita stessa di calcio è resa in realtà Tsone pure grazie a una struttura di storytelling che è propria di Heineken e la cosa interessante tra l'altro è che la maggior parte di questi most shareable moments non erano in realtà i gol, ma erano quello che succedeva un po' fuori dal campo, tipo il giocatore che beve la birra, il gatto che entra in campo e cose del genere, rendendo ancora più facile il collegamento col brand. L'ultima cosa che vi faccio vedere è per Renaud, ed è una cosa che noi abbiamo fatto in realtà per lanciare una macchina, è stato un branded content che ha avuto molto successo, adesso è stato replicato anche all'estero, è stato fatto da Mainetti, il regista di Gigrobo, per comunicare una macchina che grazie alle sue qualità poteva trasformarsi in un off-road, tanto quanto in una macchina più da città, abbiamo creato questa storia, che è una storia, adesso non vi faccio vedere perché non ho tempo, è un po' lunga, di 7 minuti, che in realtà era smontabile in parti diversi e ognuno poteva ricostruendo e diventava un'altra storia. In 2016, Renaud launched the new Cynique, a modular MPV that can transform into a crossover and an urban car, but how to get people involved in such a technical benefit as modularity? New Renault Cynique presents Ningyo Ningyo is a romantic story that turns into a drama, a thriller, a noir and a horror film by letting users change the order of the same movie scenes. A film as easy to adjust as the car. Happy End Or maybe not In realtà questo è stato possibile proprio per il modo di comunicare a Renault che è sempre mai partire dalla macchina, ma sempre cercare di mettere il consumatore al primo posto. Ancora una volta, adesso non vi faccio vedere proprio la struttura specifica, però l'entertainment diventa ownable grazie a proprio una struttura che si replica mettendo al primo posto quelli che sono i valori del brand. E questa è un po' insomma la regola che cerco di applicare io oggi con tutte le varie forme di entertainment che possiamo utilizzare, che possiamo sviluppare. Proprio perché abbiamo tante possibilità diverse, la coerenza e la consistenza del modo di raccontare queste storie deve essere assolutamente rigida e soprattutto deve partire da quelli che sono i valori del brand. Altrimenti diventa semplicemente appunto puro intrattenimento. Noi abbiamo la possibilità oggi di intrattenere i consumatori veicolando quelli che sono i nostri valori del brand e farlo in maniera particolarmente emotiva grazie a questa forma di comunicazione.